Halloween alle porte! Prepariamo una squisita e succulenta mela avvelenata. Partiamo lavando le mele e asciugandole bene. Togliamo il picciolo e piantiamoci degli stuzzicadenti molto lunghi. In una pentola zucchero, acqua e miele. Eh sì, finalmente la nostra pentola è tornata. Andiamo sul fuoco e aggiungiamo il colorante. Un po' di cannella e continuiamo a cuocere. Ci vorrà un po'. Se avete un termometro è perfetto, altrimenti fate questo trucco del cucchiaino. Immergete un po' di sciroppo in acqua fredda e se si forma una pallina potete spegnere. Non ci resta che immergere le nostre mele e ricoprirle per bene. Eliminiamo lo stuzzicadenti e mettiamo un rametto. Io per velocizzare il tutto immergo in acqua e ghiaccio. E buon Halloween a tutti!